Questi sono i vigneti dove noi raccogliamo le uve del Gran Casale. Siamo nella fase della fioritura, se vedete i grappolini stanno crescendo molto bene e rigogliosi. Ci attendiamo una ottima annata, ricca di quantità e di qualità. Quello che è importante vedere è che la natura, anche in questo momento, ha continuato il suo ciclo lento e rigoglioso inesorabile, quindi non si ferma mai. È un ritmo meraviglioso che ci dona sempre grandi sorprese e grandi aspettative.